Buonasera a tutti, grazie per essere qui, sono contenta di questa serata, sono contenta di questa mostra su Marco Zanuso per la quale abbiamo lavorato io perlomeno almeno dieci anni, poi i risultati si sono visti adesso anche grazie alla Letizia Tedeschi, all'archivio di Mendrisio, alla Fondazione dell'Ordine e a voi che siete qui, amici e conoscitori di Marco Zanuso, io ho lavorato con Marco Zanuso più di dieci anni, sono orgogliosa di poterlo dire e credo che lui per me sia stato un grande maestro, ma io non voglio parlare di lui adesso, voglio che di lui parlino tutti i… ma figurati se bacio il microfono, adesso mi hai fatto perdere il filo, beh io vorrei che di Marco Zanuso parlassero tutte le persone che sono qui al tavolo, io non voglio parlare di lui stasera però voglio leggervi un pezzetto che lui ha scritto tanti anni fa, così tanti che è meglio non contarli perché sono di questo tempo che passa così veloce e che ho ritrovato casualmente oggi e che mi sembra così interessante, così bello e così attuale che vorrei, ve lo voglio leggere. Il progettista per i suoi coinvolgimenti, per le sue responsabilità si trova ad essere fra gli individui della collettività sociale più condizionato dalle sue evoluzioni e dalle sue trasformazioni e nelle condizioni migliori del suo operare, capace di contribuire con significativa incidenza all'evoluzione e alle trasformazioni dell'ambiente in cui opera. Uno dei fenomeni, salto dei pezzi naturalmente perché questa è una conversazione che lui aveva fatto ancora quando aveva lo studio in Via Laveino, che è lunghissima, sono 20 pagine, ne ho tirato fuori qualche pezzettino. Uno dei fenomeni più significativi e incidenti sull'evoluzione e sulla trasformazione della cultura progettuale è proprio l'avvenuta separazione del processo di progettazione dai luoghi e dagli apparati produttivi e ciò a causa dei processi di separazione e di parcellizzazione indotti dalla rivoluzione industriale nel mondo del lavoro, nei settori della distribuzione delle merci e nelle articolazioni del corpo sociale e delle strutture amministrative. È allora che l'ideazione e l'elaborazione del progetto si allontana dal luogo della produzione per collocarsi nei luoghi del lavoro intellettuale ricercando nuove espressioni nei linguaggi e nelle tecniche rappresentative caratterizzate e condizionate da una nuova razionalità imposta dal necessario dialogo con la macchina, capace di ricevere solo disposizioni obiettive, incapace invece di ricevere messaggi o indicazioni interpretabili. Lo strappo non è stato né radicale né improvviso, ma gradualmente nel tempo determina nuovi ruoli e nuove articolazioni della conoscenza. L'ideazione e l'azione progettuale si collocano in nuovi spazi culturali lontani dal mestiere e dalle conoscenze tramandate attraverso la tradizione familiare per avvicinarsi al mondo della scienza, della ricerca applicata in un nuovo spazio più lontano dalla produzione, più vicino ai luoghi delegati all'esercitazione mentale e alle attività intellettuali. Parallelamente l'indagine scientifica si sposta gradualmente dalla speculazione astratta del mistero dell'essere e dalla scoperta del significato e della natura dell'universo verso l'indagine sperimentale, più vicina all'analisi dei fenomeni naturali, alla scoperta di risorse utilizzabili, al fine di migliorare le condizioni della vita sociale e di sviluppare un ambiente costruito più rispondente alle nuove esigenze comportamentali. In questo nuovo spazio la cultura progettuale acquista una nuova autonomia e accede alla ricerca teorica, alle tecniche operative, alla metodologia sperimentale, impara a procedere per modelli sviluppando processi di definizione che procedono dall'astrazione verso la verifica operativa. L'attività progettuale non può essere gestita come attività diretta e individuale, essa non può trasmettere l'impronta creativa dell'intuito isolato dell'artista o dell'artigiano direttamente mediando tra materia e contenuto, tra bottega e produzione. Si trasforma, si articola in una maggior complessità di dati e di conoscenze, deve accedere a metodi, modalità e linguaggi che le consentano il coordinamento necessario a gestire il controllo ideativo e operativo. Grazie a Marco Zanuso per queste cose che ha scritto, io credo che ancora oggi possiamo leggerle come se fossero scritte ieri. Franco Raggi, tocca a te. Grazie, ringrazio Daniela Volpi che è partita mentre io ancora stavo organizzando la tavola, volevo dire chi c'era a questo tavolo stasera e dare la parola per prima a Letizia Tedeschi che è direttrice dell'archivio del moderno dell'Accademia di Architettura di Mendrisio che è l'istituzione che ha reso possibile questa mostra, il libro, innanzitutto è stato editato dall'Accademia di Mendrisio e insomma se non c'erano loro non era facile farla, magari ce la facevamo ma insomma. E poi ci sono allora qui al tavolo con me Bruno Reichling, architetto e docente a Mendrisio e prima ancora a Ginevra, Roberta Grignolo, docente all'Accademia di Mendrisio che è l'artefice del libro, ho detto giusto? Sì, è quella che proprio il libro l'ha messo insieme, degli scritti di Marco Zanuso, Alberto Bassi delle Uav di Venezia è anche curatore scientifico dell'archivio Sacchi, il modellista che ha fatto tutti i modelli dei grandi maestri del design milanese, il cui archivio è in parte alla Bicocca, in parte alla Triennale in deposito, Alberto Bassi si occupa anche della gestione scientifica di questo archivio e del docente all'U.A. ed è la persona che ha ordinato la mostra insieme a Fiorella Bulegato, che non è al tavolo ma è come se ci fosse. Poi c'è Richard Sapper perché volevamo che questa sera ci fosse chi ha collaborato in maniera profonda con Marco Zanuso e che in qualche modo ne è stato non un semplice collaboratore. Poi se arriverà c'è Ennio Brion, se arriverà, speriamo che arrivi. Noi abbiamo fatto questa affare qua durante il giorno del mobile perché sono tre anni che ci incaponiamo nel parlare di architetti milanesi, design milanesi, allestendo delle mostre apposta sul loro lavoro nel nostro povero spazio qua sotto, cioè noi rispetto ai grandi protagonisti del design, siamo piccolini però insomma ci diamo da fare e pensiamo che sia importante che qui all'Ordine di Milano avvengano delle cose che hanno a che fare con la professione degli architetti milanesi, dei designer milanesi e non solo. E quindi abbiamo organizzato questa cosa, quindi c'è un libro che è fatto dall'Accademia di Mendrisio, una mostra che abbiamo fatto insieme e poi c'è un video che alla fine abbiamo voluto fare, ha fatto Francesca Molteni di Muse, andando a intervistare, a importunare chi è stato vicino a Marco Zanuso nel suo lavoro. Adesso io lascerei la parola a Letizia Tedeschi, poi dopo per una breve introduzione, poi dopo ci guardiamo questo breve filmato che introduce il personaggio nei ricordi delle persone che hanno lavorato con lui e dopodiché cerchiamo di arrivare in fondo con tutti gli altri interventi. Prego Letizia. Buonasera, a me tocca la parte istituzionale, l'archivio del moderno, l'istituto di ricerca dell'Accademia di Architettura di Mendrisio, ha l'onore di conservare la memoria di Marco Zanuso e quindi di conservare le carte professionali e l'archivio di Marco Zanuso. Sono particolarmente lieta oggi di essere ospite dell'Ordine degli Architetti di Milano con il quale abbiamo organizzato questa manifestazione. È vero che senza di noi non si poteva fare, ma neanche senza di voi. Quindi direi una collaborazione felicitante, reiterata, perché è la seconda manifestazione che organizziamo insieme e mi auguro che questa collaborazione possa continuare. Due parole sul nostro progetto di ricerca che già da qualche anno abbiamo avviato a Mendrisio su Marco Zanuso, le tecniche costruttive, le tecniche di progettazione. Progetto di ricerca coordinato dal professor Reichling, qui presente, e che abbiamo voluto fare partire non a caso proprio con questo volume dedicato agli scritti. Come mai appunto non ha un volume di un architetto progetto dedicato agli scritti, non ai suoi progetti. Questo perché da una parte abbiamo voluto partire proprio conoscendo il pensiero di Marco Zanuso, abbiamo voluto approfondire il pensiero di Marco Zanuso e come ricorda lo stesso Reichling nella prefazione, Marco Zanuso fin dagli anni precoci a questa attività di pubblicista per Domus sotto la direzione di Rogers e teneva questa rubrica che lui stesso definiva teorico-poetica. La curatrice del volume, Roberta Grignolo, ha poi fatto una selezione partendo da questi testi e lavorando anche all'interno dell'archivio, all'interno delle sue carte, ha fatto una selezione e ha costruito il libro. Qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo finale è quello di pubblicare un lavoro approfondito monografico su Zanuso e di anche organizzare una mostra ampia. Questo è il primo lavoro che facciamo ma fra qualche anno vorremmo presentare una grande mostra dedicata a Marco. Come ultimo vi prendo ancora due minuti, vorrei infine ringraziare Franco Raggi, Alessandra Messoni e il grafico Marco Strina per l'allestimento della mostra, naturalmente l'ordine degli architetti, l'Università di San Marino e lo UAB di Venezia che hanno lavorato con noi per questa mostra ed infine la curatrice del volume e soprattutto la famiglia Zanuso, Lorenza, Susanna e Federica con cui in questi anni sempre abbiamo collaborato. vorrei anche ricordare il piccolo volume che è stato fatto in questa occasione, Marco Zanuso, il progetto integrato, dove trovate dei testi di Alberto Bassi, Cristian Sumi, Maddalena Scimemi e Fiorella Borghiato, un piccolo contributo che abbiamo dato al progetto di Zanuso. Grazie, grazie Letizia. Io come ordine degli architetti vorrei ringraziare anche la fondazione che è stata attorno a questo progetto e specialmente Giulia Pellegrino che l'ha seguito fin dall'inizio. dunque noi ci siamo messi poi alla fine in mente che si poteva fare un video e siamo andati a importunare un po' di persone, anche riottose per esempio la figlia Federica che ha lavorato nello studio del padre fino all'ultimo ha detto neanche morta, solo se ci sei anche tu che guardi, sembrava di andare dal dentista e in effetti possiamo cominciare con alcune dichiarazioni di Federica. Prego, facciamo partire il video perché parte con la tua faccia. Non l'ho visto, tu l'hai visto? Io mai. Si metteva al tavolo da disegno e cantava, spessissimo quando disegnava canticchiava canzoni nepoletane. Ma un litigo? Vai! Vai! E lui si è arrabbiato moltissimo, cosa fai? Ti fermi! Vai! 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 Ho fatto un'esperienza meravigliosa, durato 12 anni. I doni in minga gente. Marco Zanusi era un altro uomo straordinario. L'avevamo tradotto nello slogan, la ragione che disegna la forma. Questa è stata in realtà la vera bellezza, la vera specificità di un personaggio come mio padre, per lo meno come me lo ricordo io. È questa faccenda del divertimento. Di quanto gli è piaciuto fare questo lavoro? Il designer, architetto eminente, aveva delle idee giuste su tante cose. Era uno che gli piaceva moltissimo vivere e gli piaceva nel senso di prendere le robe, rimescolarle, modificarle, trovare delle cose su cui anche giocarci. Curiosità, creatività, voglia di sperimentare, voglia di sperimentare. E questo lo faceva sia nel design che nell'architettura. Marco Zanuso deve fare delle affermazioni molto dense. È stato un grandissimo designer. Mi ricordo per l'appunto lo slip-o-matic che abbiamo avuto in casa per molto tempo. Tutte le volte che ci si sedeva, un po' in pizzo così, quello togliamo la sua testa dietro, perché aveva le zampe davanti messe un pochino troppo indietro. Si progettava una matita così, andavamo a vedere come producevano le matite, cercavamo di farla produrre in maniera meno costosa, con il materiale più giusto, eccetera. Era la logica più severa del design, insomma. Veniva nel laboratorio, stava con gli ingegneri. Aveva questa sua impostazione anche un po' ingegneristica, se vogliamo, e questa attenzione anche alla forma tecnica. Per me è come un grande illuminista. Ha sempre affrontato il tema della serialità, però ha una grande cultura anche, diciamo, io dico umanistica, insomma. Gli oggetti del Marco Zanuso sono oggetti che ci sono trovati nelle case tutti, perché erano oggetti che avevano un po' di modernità straordinario rispetto ai tempi. Tutto era piuttosto dolce, curvo e quindi tutte queste cose qui avevano un grande impatto, un'immediata comunicazione. Quest'idea che l'apparecchio televisivo in casa potesse essere un segno di intelligenza. Uno dei primi oggetti che abbiamo fatto, che era una vera rivoluzione, in Italia e nel mondo, era la radio 502. Una scatola tutta chiusa, che non si vede che cosa c'è dentro, tutta liscia. E poi quando si apre si vede, si apre come un teatrino. C'era un personaggio straordinario, il vecchio signor Brion. Mi stava a cuore fare dei bei oggetti. Il primo televisore a transistor che è stato fatto in Europa, che si chiamava Done, la scocca che era stampata era trasparente per vedere tutta la tecnologia interna. E questo l'Apple l'ha fatto poi dopo molti anni. Zanuso come architetto era un elaboratore di teoremi. Tutte le volte che si guardava un progetto, grande o piccolo che fosse, stupido o importante, una delle cose che a lui interessava di più era di capire come si sarebbe mossa la gente lì dentro. Individua un paesaggio e l'architettura è una macchina per mettere in rapporto la persona, la percezione dello spazio con questo paesaggio. Proprio a Paxos ho fatto questi tre dadi di pietra con l'idea di fare una tenda Moretti, tre tende Moretti però con i muri spessi così tutti di pietra. La tenda Moretti non ha finestre, infatti non hanno finestre. Zanuso amava le sfide. La prossera dello studio era molto vivace a tratti, serissima in altri momenti, piuttosto cattiva anche, delle sgridate, furiose, delle robe che volavano anche, alcuni telefoni sono volati nello studio. Lui era cliente di mio padre, cioè mio padre era cardiologo. Mi diceva che Marco Zanuso era chiamato il divino Marco. E non andai a lavorare da Marco Zanuso e mio padre si mi arrabbiò molto. Forse avevo capito più o meno che era un ambiente piuttosto tour. I miei maestri furono almini certamente, anche Zanuso. Zanuso era un altro lavoro straordinario, inventava delle cose la mattina e la sera, ci lavoravano da lui con un sapper. Era chiaro che avevamo delle teste che erano fatte a un po' in cinque minuti. Lui era simpatico con le persone che trovava intelligenti. E' uno che arrivava dietro al tavolo di disegno mentre tu stavi lì facendo le tue porcate, perché indubbiamente io facevo un sacco di porcate. A un certo punto diceva, no, cosa è quella roba lì? Fatto sta che io lo andavo a prendere la mattina con la macchina e lui si faceva gli affari suoi, si distraeva. A un certo punto io mi sono fermata alla barriera dell'autostrada dove bisognava pagare, non c'erano, allora non c'erano i telepass. E lui si è arrabbiato moltissimo. Cosa fai? Ti fermi! Vai! 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 Però poi nascondeva dietro questo una dolcezza enorme. Lui ha fatto la mia... Ma la mia... Quando io sono venuto da Marco, ero un ragazzo, sapevo quasi niente. Lui mi ha fatto tutto. Il rapporto col committente, insomma, che poi doveva produrre una bella cosa comunque fosse il committente. Diciamo che mi ha insegnato a amare l'architettura sul serio. Mi ricordo che l'ultimo Natale in cui l'ho sentito gli ho telefonato e gli ho detto Marco ti mando un abbraccio e io quattro. molto, molto, molto dolce. Veramente. No, lui ha avuto una bellissima vita. Non si può lamentare. O Dio. avevamo detto tutti molte più cose la Molteni ci ha tagliato proprio implacabile, però brava allora adesso prima di dare la parola a Bruno Reich volevo introdurre un tema poi magari lui non lo svolge ma non importa cioè in un'intervista del 99 io ne ho fatta una sola e tra le tante cose lui disse avrò fatto tre buoni progetti forse, ne ha fatti molti di più ma non avrò fatti tre buoni ma bastano se sono giusti che è una dichiarazione molto forte sul problema della qualità e non della quantità cioè in effetti i progetti di Marco Zanuso avevano tutti una forte essenza intanto etica rispetto al problema del mestiere e quindi non formale non mondana molto concentrata su dei problemi che avessero a che fare con un tema con un tema specifico l'efficienza per esempio la ricerca dei processi cioè come le forme non sono legate a delle casualità ma hanno delle ragioni interne che dipendono dai modi di fare in quegli anni negli anni in cui lui ha cominciato per tutta la sua carriera è stato secondo me un grande esegeta dell'essenza della modernità cioè del fatto che la modernità non è una forma non è un non è un esito come dire estetico è proprio un approccio alle possibilità allora io adesso do la parola a Bruno Reikling che non so se svolgerà il tema della modernità ma non importa lo volevo dire magari invece non ci siamo messi d'accordo ma prego Bruno intanto dirò che sono molto intimidito di parlare zanuso a un pubblico milanese alla società degli architetti ma insomma speriamo che me la cavo dunque per gli architetti della mia generazione o almeno per me studiare i progetti le opere zanuso leggere esplicitare i suoi testi e dimenticare per poco il contesto dell'architettura dell'architettura contemporanea è quasi una consolazione il sentimento che provo è un po' quello di amare core perché con zanuso si ritrova un architetto che per impegno civico per curiosità nei confronti di tutto quel che fa problema per sfida la propria perspicacia per la passione del gioco del lagone progetta produce idee a partire da un problema a posto uno dirà è normale secondo me purtroppo non è più normale un problema distributivo tecnico materiale produttivo economico a partire da una certa idea dell'abitare in determinate situazioni e contesti lavoro città vacanza al lago in montagna tutto l'agire il muoversi e l'abitare un architetto tra l'altro apparentemente più contento più appagato dal fare da quel che fa che non dal risultato anche questo si è un po' perso questa idea chi so che zanuso ma non solo di zanuso ma anche di ponti minoletti albini mangiarotti per limitarmi l'Italia non può eludere una questione o meglio un vero e proprio problema storiografico e qui vengo al moderno cosa è stato in concreto il funzionalismo cosa ha significato per gli architetti per il loro abitus per il loro sentimento di legittimità ma pure per il loro piacere e soprattutto per il loro modo di fare quotidiano al tavolo di lavoro in cantiere in officina io credo che il termine funzionalismo oramai a molti dà sui nervi e addirittura è una specie di repoussoire difatti se si parla nelle scuole diciamo di funzionalismo si dà per scontato che tutti gli studenti sanno perfettamente cos'è e poi che per fortuna ce ne siamo liberati e che non vale più la pena di parlarne e io credo che questo è un bel disastro perché non si deve dimenticare che la storia diciamo dell'architettura moderna in fin di conti ha cominciato ponendosi i propri problemi di fare un fare conforme a dei problemi con i quali la società si confronta con quella la tecnica la produzione materiale si confronta e quando si parla di funzionalismo bisognerebbe cominciare a dire che ce ne sono stati tanti diversi estremamente creativi intanto c'è il funzionalismo praticato alla fine dell'Ottocento con una grandissima manualistica tedesca basta pensare a non so i 32 che poi sono in tanti credo 50 persino i volumi dell'Handbuch des Architekten per temi per problemi e così via alle poetiche che hanno ispirato la creazione del Werkbund e in questo caso anche la famosa contesa tra Van de Velde e Mutesius attorno intanto attorno a un malinteso sulla nozione di tipo e altro ma un malinteso estremamente istruttivo per capire tutte le cose che sono andate storte nell'architettura successivamente poi naturalmente il Neues Bauen che addirittura evita di utilizzare il termine l'architettura per scaricare tutta una problematica come di reputata artistica che è grave che crea e che crea problemi diciamo di ideologici e anche di poetica agli architetti e quindi un'ambizione di scientificizzazione del lavoro progettuale e naturalmente conseguente anche accusa in parte anche giustificata diciamo di determinismo determinismo tecnico funzionale e così via e poi naturalmente c'è il funzionalismo come l'ha definito Adolf Bene che lo vedeva contrapposto a un atteggiamento più razionalista identificando con questo Miss Van der Rohe le Corbezie e Gropius mentre i funzionalisti quelli che producevano delle forme calcate sull'uso quasi diciamo delle specie di involucri involucravano l'uso un certo tipo di uso che poi in quel momento poteva essere l'abitazione soprattutto nel caso di Ering una scuola o magari addirittura un'azienda agricola che poi è diventato una delle tante varianti dell'architettura organica con Ering sempre ancora e Charon fino alle soglie del postmoderno tutte sono infinite forme diciamo di strategie architettoniche che hanno utilizzato più o meno diciamo il termine funzionalismo ma il funzionalismo non si è mai costituito a differenza di quel che molti pensano come una corrente è piuttosto un problema a posto a che cosa deve rispondere l'architettura e come in qualche modo far diventare l'uso la tecnica i materiali elementi produttori di idee a tal punto che parlando con un maestro funzionalista nostro nostrano come Steiger diceva quando i fabbricanti hanno cominciato a fabbricare quello che noi da anni gli proponevamo di fabbricare a livello diciamo di lavandini di quegiamenti tecnici per gli ospedali ma anche di finestre per fabbricate di elementi di elementi produrre in serie quando hanno cominciato a fare questo non avevamo più idee questo naturalmente è perché questi erano funzionalisti svizzeri naturalmente c'è un funzionalismo estremamente che si è interessato anche la psicologia dico ai comportamenti si parla molto dell'edificio della Bauhaus andate a vedere quel che resta ancora molto diciamo della casa dei sindacati la scuola dei sindacati a Bernal di Hannes Mayer e si vedrà che grado di intelligenza e di finezza ha raggiunto questo architetto dico pensando a quelle piccole comunità che si trovavano in formazione per un certo periodo in questa famosa scuola e così via quindi il funzionalismo dico è come dire è un termine estremamente importante è una nozione molto importante che va indagata perché in qualche modo è la legittimazione di moltissime di moltissimi procedimenti di molte tecniche per pensare il proprio lavoro e di fatti quando si parla di funzionalismo per questo parlo a proposito di Zanuso perché poi proprio il lavoro diciamo fatto da Roberta Grignolo scava questa problematica sempre per rapporto a Zanuso e dico non nei termini generali forse troppo generali come lo pongo io adesso è che il funzionalismo concerne sia il miglioramento degli oggetti ma mira anche al miglioramento del lavoro dell'architetto rendelo più performante e in questo caso diventa molto interessante vedere come molti architetti hanno pensato a riformare non soltanto diciamo il modo come produrre degli oggetti ma anche come riformare e trasformare il lavoro dell'architetto quando Klein studia gli appartamenti le casa minima naturalmente intanto si differenzia dai francofortesi perché ragione perché Klein è un architetto che viene dal Neubiedermeyer e quindi sarà attento anche nella casa minima a ritrovare degli elementi minimi di identificazione sociale che sono proprio diciamo a questa caratterizzazione degli ambienti interni dell'abitare della cultura borghese mentre invece i francofortesi porteranno tutto sulle misure sul centimetro addirittura quasi fissando la famiglia in una certa età tant'è vero che un figlio in più o i figli che diventano grandi diventano persino un problema per l'abitare con aspetti in qualche modo anche un po' comici magari ma insomma e poi naturalmente chi invece mira a migliorare il modello lavorare e Klein quando enumera tutta una serie di procedure attraverso quali filtrare dei modelli di abitazione i metri quadrati che ci vogliono le tipologie diverse che nascono secondo che si aumenta la profondità la larghezza e così via Klein in questo momento non soltanto cerca di ottimizzare il prodotto ma cerca di istruire gli architetti a complessificare e arricchire il modo per avere delle idee eccellenti attorno alla funzione Le Corbusier ma Le Corbusier non vedere il lavoro funzionalista di Le Corbusier e cadere in un vacuo formalismo Le Corbusier è stato un grandissimo funzionalista ma che ha avuto un'idea geniale ha definito diciamo intanto l'oggetto architettonico come determinato dalle tecniche quel famoso bellissimo disegno che le tecniche sono l'assiette dell'architecture ma quando poi parla di questo di cos'è poi l'architettura dice ma in fin di conti voi funzionalisti e parlano altrimenti degli altri siete come dire avete una visione estremamente determinista ma ci sono tante soluzioni che possono soddisfare un certo problema ma c'è una soluzione elegante e qui Corbusier cita chi? Cita senza dirlo cita Poincaré il matematico il quale ha proprio parlato di soluzioni eleganti in matematica facendo riferimento a che cosa? A una soluzione che ne contiene tante altre a una soluzione che generalizza un problema una soluzione che per la sua chiarezza dico istruisce su come è stata come è nata e quindi è una soluzione autoriflessiva vale a dire una soluzione che indica il problema stesso e il modo come è stato risolto e quindi contiene il problema e la sua soluzione Le Corbusier da questo punto di vista ha prodotto un'idea di poetica basata proprio su questo lavoro che addirittura indesigna con l'architecture tutto il resto dice certo dobbiamo sapere tutto su tutto ma è quando si sceglie la soluzione elegante che lì capita il grande lavoro che è l'architecture e questo io penso che vale per tornare a Zanuso che vale moltissimo per Zanuso e anche altri acquitetti di quel tempo Zanuso si è sempre osservato facendo ha cercato in mille modi spesso anche faticosamente di descrivere quel faceva e di capire come far meglio le cose e negli scritti il risultato degli scritti è proprio questo venire costantemente su certe idee e pensare come lavorare come far lavorare gli altri come lavorare in gruppo c'è una specie di esaltazione anche nel fatto di essere in tanti a lavorare una cosa anzi addirittura riconoscere che i veri problemi interessanti dell'architettura sono come nell'industria e altrove sono dei problemi che si risolvono a molti certo c'è sempre un leader in qualche modo e credo che Zanuso abbia mai mancato occasione per cercare di esserlo ma quello che è interessante è questo riconoscere la produttività di un gruppo che lavora e quindi anche senza saperlo sicuramente un po' come a M. Jourdan che fa della prosa senza saperlo rinverando qualche cosa di cui ha parlato lungamente largamente con gran competenza Bachelard Bachelard parla diciamo della città della tecnica parla della città dei tecnici la città dei scientifici e dice bisogna per capire per capire come va il mondo della scienza bisogna entrare non si può star fuori non si può star fuori e criticare e in questo senso dico l'irritazione che esce traspare dai testi di Zanuso spesso rispetto ai colleghi che pure stima ai professori dice addirittura come dire lui parla addirittura della cultura ufficiale Zanuso ride un pochino di questa attitudine un po' inamidata diciamo di una cultura che si vuole storica che si vuole molto dico filosofica e che fin di conti ha però paura di confrontarsi di sporcarsi le mani in un termine su dico col fare dico qual essere nell'industria correndo tutti i rischi legati diciamo ai condizionamenti che naturalmente una produzione impone senza sapere sempre dove si va a finire e quando farà una conferenza all'Uav a un certo momento suggerirà al professore dell'Uav dico forse farebbe bene un po' di design da voi perché almeno porta un po' di scompiglio e io penso che questo proprio in questa attitudine che tra l'altro che non ha paura diciamo del gioco che non ha paura di sbagliarsi ma che si diverte che si diverte muovendo le cose stando dentro diciamo la macchina produttrice stando dentro il pensiero che fabbrica questo rende una delle sue grandi qualità e penso che anche la qualità diciamo dei migliori architetti ommeno di bravissimi architetti in quel periodo che in fin di conti il postmoderno ha messo un po' da parte e io credo che è molto importante che ci si occupi di questo e quindi il fatto che ci si occuperà di Zanuso nei prossimi anni è un modo anche di occuparsi diciamo di binoletti di architetti tutti architetti italiani che sono sempre stati un po' come dire tenuti al margine diciamo da una certa cultura ufficiale che era pure anche una grande cultura architettonica ma con qualche limite e qua è tutto grazie grazie Bruno tu hai affrontato il problema specialmente di Zanuso architetto ma anche di Zanuso teorico ecco c'è un un aspetto che forse io non ho ancora letto il libro e scusate riesco a parlarne senza averlo letto capita perché conoscevo Marco e conoscevo il fatto che non fosse uno scrittore un teorico scrittore uno che affidava alla parola alla parola l'essenza del suo pensiero anzi non credo gli interessasse neanche molto le mostre per esempio quando io gli ho fatto un'intervista nel 99 c'era appena stata o era ancora in corso la triennale la mostra che gli fecero rispetto alla quale era anche molto scettico non schivo scettico diceva non mi interessa tanto perché dico hai visto la mostra che te ne pare non mi interessa non aveva interesse a un'immagine del suo lavoro che venisse storicizzato in un qualche modo gli interessava fare le cose quindi c'è una specie di così forse luogo comune di Zanuso come grande professionista ma non teorico comunque non teorico alto in effetti quando ho saputo che a Mendrisio facevano un libro sugli scritti mi sono chiesto ma quali saranno gli scritti perché non ne conoscevo tanti non è che ha fatto mai un libro in cui però per esempio rispetto alla scrittura mi sembra di poter dire che anche lì Zanuso era molto funzionalista cioè scriveva perché serviva a farlo per esempio per Domus fece un piccolo manuale sulla cucina che era che Bassi mi ha trovato su Amazon ma io non l'ho comprato perché sono avaro ma mi ha detto vai perché c'è non sono neanche feticista questo fosse il problema cioè forse me lo presti lo leggo poi dopo te lo ridò ma cioè è un manuale che ha scritto per Domus perché riteneva corretto che una rivista che parlava di architettura di modernizzazione della scena domestica istruisse divulgasse dei concetti che riguardavano il nuovo modo di comportarsi nella cucina come la cucina sarebbe voluta poteva evolvere in funzione di una sua tecnologizzazione e quindi scrisse questo fece questo piccolo libretto molto interessante su le cucine come si comporta in cucina quindi non un teorico alto da questo punto di vista ma invece un pratico un teorico pratico allora adesso passo la parola a Brugnato che ha che si è come dire che ha curato che si è occupata di questi di questa merida di scritti che li ha messi insieme e niente Grignolo prego a lei la parola se devo accendere ecco grazie intanto ringrazio all'ordine degli architetti di Milano e l'archivio del moderno di Mendrisio senza i quali non saremo qui questa sera e questo libro non si sarebbe potuto fare questa presentazione e forse parto diciamo dal titolo che ho dato diciamo a questa insieme questa raccolta di scritti dunque tecniche di produzione penso che sia chiaro che cosa siano sono le tecniche di lavorazione dei materiali e degli elementi di cui diciamo con cui sono stati realizzati diciamo gli oggetti e le architetture di Zanuso mentre tecniche di progetto appunto diciamo sono quelle a cui si riferiva il professor Eichlin prima cioè sono tutte quelle strategie che l'architetto diciamo utilizza per passare da quello che è il programma che viene definito diciamo dal committente a quello che è un progetto finito allora diciamo questo ambito diciamo delle tecniche di progetto è un ambito che ha sempre affascinato gli architetti diciamo perché ciascuno è curioso diciamo di come funziona quella che potremmo chiamare la macchina inventiva del vicino allora ci sono architetti che descrivono le loro opere senza raccontare nulla di come le hanno progettate ci sono altri architetti diciamo che scrivono moltissimo sulle loro opere cercando proprio di sviscerare come queste diciamo sono nate tra cui Le Corbusier altre che lo fanno diciamo però mistificandolo ad esempio Alvaralto che racconta che lui trovava l'ispirazione in fondo al bicchiere di whisky bevuto alle 3 del mattino e altri invece che scrivono molto per la loro posizione anche per il loro ruolo istituzionale e accademico come Zanuso ma non scrivono direttamente sulle loro opere o comunque diciamo non sempre e neppure delle loro tecniche di progetto allora in questi casi spesso gli scritti appunto vengono considerati in secondo piano e cadono nel dimenticatoio e quindi il merito di questa iniziativa editoriale lanciata dall'archivio del moderno è proprio quello di aver creduto nell'importanza di considerare gli scritti apparentemente secondari in parallelo alle opere in effetti la disamina attuata degli scritti di Zanuso ha consentito leggendo tra le righe di scoprire alcuni aspetti delle tecniche di progetto che a loro volta si sono rivelati preziosi per comprendere i progetti di Zanuso stesso dove sta il carattere innovativo di questi progetti quali sono gli elementi chiave e questo anche in vista di una conservazione dell'opera costruita di Zanuso ora che il restauro del moderno è finalmente diventato di moda dunque cercherò di ripercorrere brevemente alcuni elementi che sono stati tratti appunto da questa analisi degli scritti dunque Zanuso si iscrive al Politecnico di Milano nel 34 e lui stesso descriverà la sua formazione come una formazione tipo bosard con qualche venatura positivista con rare aperture quindi all'architettura moderna una di queste è il corso di Enrico Agostino Griffini che attraverso gli insegnamenti di Alexander Klein rappresenta una vera e propria iniziazione al funzionalismo e Zanuso fin dall'inizio fin da studente proprio attraverso i primi scritti una dichiarazione di fede si schiera apertamente per l'architettura moderna poi nel 39 si parte appena laureato parte per la guerra come l'Accademia Navale di Livorno ed è in questi anni che si accentua in lui quello che è un interesse già giovanile per il mondo della tecnica e qui che su incrociatori e corrazzate lui stesso descrive che avrà la grande rivelazione su questa realtà di carattere tecnologico e produttivo le tecnologie applicate ai materiali cose che al progetto di architettura che ci avevano insegnato al Politecnico erano estrane e quindi queste grandi navi da guerra insieme anche alla strumentazione tecnica che Zanuso impara a utilizzare costituiscono ai suoi occhi oggetti esemplari in cui la funzionalità è spinta alle estreme conseguenze gli anni della guerra dovrebbero essere per Zanuso che si laura nel 39 anche i primi anni in cui costruisce in realtà però la guerra ritarda dal cantiere e invece scriverà al lavoro intellettuale alla pubblicistica nel 45 come già ricordava l'architetto Raggi Zanuso quindi scrive questo volume sulla cucina in questa collana intitolata Quaderni di Domos che doveva fornire dei manuali pratici per quanto riguarda l'arredamento dell'abitazione e la cucina rappresenta un'applicazione esemplare del metodo di progettazione funzionalista gli architetti moderni hanno fatto un luogo di sperimentazione dei metodi di organizzazione della produzione industriale applicati alla casa e questo lavoro che Zanuso svolge sulla cucina lo obbliga ad un'analisi molto approfondita dei progetti dei suoi predecessori che sono presentati in questa parte illustrata ma anche del metodo di progettazione sotteso e lo porta a prendere coscienza dell'esistenza di metodi di organizzazione del lavoro progettuale che derivano da altri settori industriali che anche l'architetto però può sfruttare per rendere più efficiente il suo lavoro e nella fattispecie si tratta delle ricerche sull'organizzazione del lavoro di Taylor Ford e sull'analisi dei tempi di Gilbert questi sono alcuni dei disegni che Zanuso prende da Bauhaus Bauten di Gropius e che appunto mostrano la massaia intenta lo studio dei vari movimenti per ridurre i tempi di preparazione dei cibi in cucina allora lo schema che Zanuso ha dita come quello per la soluzione definitiva del problema cucina così lo descrive è illuminante perché lui prende in pratica questa cucina che è una cucina progettata dall'architetto Barret per l'exposition des arts decoratifs nel 35 e vi sovrappone questo rettino colorato e dice in pratica questa cucina risolve il problema perché in un senso questo vedete dalla freccia in un senso ricalca in pratica il ciclo di preparazione e cottura dei cibi e nell'altro invece quello di lavatura e scolatura dei piatti quindi Zanuso qui applica alla cucina i sistemi i dettami dell'organizzazione scientifica del lavoro come ricordava Letizia Tedeschi poi nel 46 Zanuso pubblica diversi articoli questa rubrica teorico-poetica sulla prefabbricazione in cui esorta i suoi colleghi architetti a utilizzare le tecniche che sono state messe a punto le nuove tecniche di prefabbricazione e industrializzazione e poi cercherà di applicarle lui stesso finalmente nei suoi primi progetti la casa per reduci al QT8 con menghi e poi i primi progetti per gli edifici industriali per i quali progetta ad hoc dei sistemi di prefabbricazione ma come sappiamo il settore edile tra i settori industriali italiani è uno degli ultimi a fare proprio i dettami della produzione in serie e sarà invece il settore del mobile ad aprirsi invece a questa sperimentazione e sarà così che pochi anni dopo la fine della guerra già nel 1947 alcuni ingegneri della Pirelli chiameranno Zanuso per cercare di esplorare i nuovi possibili usi di alcuni materiali che erano stati messi in produzione durante la guerra la gomma piuma e il nastro corda e attraverso un processo di learning by doing proprio a contatto con i tecnici di fabbrica Zanuso progetta questa poltrona che è la poltrona Lady che verrà presentata la nona triennale nel 51 che è un'innovazione da diversi punti di vista dal punto di vista dei materiali che come vi dicevo sono trasposti nel settore del mobile da altri settori industriali per quanto riguarda anche la produzione perché è una posseduta che è fatta per essere lavorata sul banco e poi assemblata in un secondo momento quindi è uno dei primi esempi di produzione in serie di mobili e poi per le tecniche di rappresentazione utilizzate perché quella che vedete in basso a destra è una delle prime volte che Zanuso utilizza questa tecnica di rappresentazione con le tre proiezioni sovrapposte che consentiva in pratica di mettere insieme le tre viste e di governare in pratica di descrivere scusatemi in dettaglio dei pezzi particolarmente complessi che deriva direttamente da quella che è l'industria della carrozzeria quindi per disegnare questi elementi lamiera metallica complessi ma la conoscenza da parte di Zanuso del mondo industriale passa anche da altri settori che è appunto uno di questi è quello appunto dei carrozzieri questo è un articolo che Zanuso scrive per la rivista Pirelli e l'occasione appunto è una visita al carrozziere Pininfarina e in questo articolo dal titolo bisogna dire un po' fuorviante in pratica Zanuso descrive il passaggio dalla macchina che viene prodotta fuori serie cioè del prototipo Unicum che viene prodotto che è formato da uno chassis sul quale viene apposta una carrozzeria indipendente e invece il passaggio da questa alla carrozzeria monoscocca che è la carrozzeria portante questo schema a sinistra spiega un pochino cioè in pratica appunto a sinistra in alto vediamo appunto questo chassis separato dalla carrozzeria invece in basso questa carrozzeria monoscocca dunque Gilbert Simondon che è un filosofo della tecnica nel 58 mette appunto alcuni chiavi di lettura per leggere appunto degli oggetti tecnici come i motori le turbine allora se utilizziamo cioè lui traccia una distinzione tra l'oggetto tecnico astratto e un oggetto tecnico concreto l'oggetto tecnico astratto è un oggetto che di fatto è formato da diversi elementi ciascuno che svolge una funzione differente e questo oggetto è un oggetto che ha un primitivo e tende ad evolvere verso invece un oggetto tecnico concreto in cui gli elementi che lo costituiscono svolgono invece simultaneamente più funzione e questo oggetto prende il nome di oggetto tecnico concreto in questa descrizione di Simondon dunque se vogliamo descrivere la macchina che analizza appunto Zanuso con queste categorie di Simondon si potrebbe dire che la macchina formata dallo chassi e dalla carrozzeria separata è un oggetto tecnico astratto quindi primitivo arcaico che evolve verso un oggetto concreto tecnico concreto che appunto è costituito da questa carrozzeria monoscocca che quindi svolge al contempo in cui gli elementi di forma sono allo stesso tempo elementi di struttura quindi la struttura e la forma coincidono queste chiavi di lettura che ci fornisce Simondon che possono essere applicate alla latura di alcuni progetti di Zanuso consentono di comprendere fino a che punto Zanuso effettivamente ha compreso quello che è un momento cruciale nell'evoluzione della storia dell'industria automobilistica cioè appunto il passaggio alla monoscocca e quindi Zanuso si trova quindi vede da dentro in pratica queste trasformazioni e anzi il funzionamento della monoscocca viene interiorizzato a tal punto che diventa il punto di partenza per la progettazione di questa sedia la sedia lambda interamente in lamiera metallica che è formata da due gusci come si vede in sezione che lavorano per mutuo contrasto in realtà l'analogia appunto tra la monoscocca e questa tra la carrozzeria monoscocca e questa sedia in effetti non è casuale nel senso che il nome che viene dato alla sedia appunto lambda e la lambda era stata una delle prime macchine monoscocca che era stata presentata al salone dell'automobile di Milano nel 1922 quindi non è un caso appunto che Zanuso assegni appunto questo nome alla sua sedia allora queste conoscenze questo modo di pensare sono tipici di industriali e ingegneri ma sono rari negli architetti e questa passione per la monoscocca si ritrova anche in un altro personaggio che è Jean Prouvet non a caso anche lui non architetto ma piuttosto costruttore l'attracción avant prodotta dalla Citroën costituisce infatti uno dei casi studio che vengono illustrati da Jean Prouvet nei suoi corsi all'Ocnam e ispira diversi suoi progetti tra cui la Maison du Peuple de Clichy e allo stesso tempo facendo un'analogia la scoperta del funzionamento e dell'importanza della monoscocca sembra assumere un ruolo fondamentale nella maturazione tecnico-professionale di Zanuso perché è la chiave che apre la comprensione proprio dell'universo tecnico e produttivo quindi lavorando a stretto contatto con l'industria Zanuso ne impara le tecniche di produzione ma assimila di questo anche il modo di pensare e di progettare per sinergie e integrazioni che è tipico dei tecnici e degli ingegneri che lavorano nell'industria in quegli anni e quindi sembra prendere coscienza del fatto che o si creano degli oggetti tecnici concreti secondo la dicitura di Simondon oppure si rimani al di fuori della logica della tecnica e non è un caso che molti degli oggetti da lui progettati possano essere descritti appunto come oggetti tecnici concreti nella macchina da cucire borletti la scocca che costituisce il gusto esterno della macchina allo stesso tempo ha funzione portante ma anche di supporto per i meccanismi interni nel telefono grillo la cornetta e la base fissa che di solito nei telefoni tradizionali sono distinti in pratica vengono invece uniti in un unico oggetto che è tra i primi precursori del telefono cellulare e lo stesso si può dire degli stabilimenti industriali anzi se analizzati nella loro successione cronologica i progetti di Zanuso per l'industria possono essere letti appunto come un progressivo processo di concretizzazione cioè di passaggio da un oggetto tecnico astratto a un oggetto tecnico concreto perché la struttura incorpora sempre più funzioni dallo smaltimento dell'acqua agli impianti che vengono progressivamente testati in diverse posizioni nella trave principale nel pilastro nella trave secondaria e così via in conclusione quindi diciamo iniziato al funzionalismo dai corsi di di Griffini diciamo su Klein e addentratosi nell'essenza diciamo di questo grazie al lavoro condotto sulla cucina per l'editoriale Domus in pratica per Zanuso la trasposizione degli imperativi di razionalizzazione della produzione al campo del progetto non costituisce un'aberrazione anzi egli al contrario applicherà indifferentemente l'imperativo alla razionalizzazione e lavorare per integrazioni alla progettazione di oggetti e alla progettazione di architetture e questo traspare dai suoi progetti ma diventa esplicito nei suoi scritti infatti la propaganda che a partire dalla metà degli anni 50 lui farà per la progettazione integrata dimostra proprio che alla fine degli anni 50 il ragionare per sintesi e per elementi cioè tra elementi diversi e anche il lavoro in equip multidisciplinari che sono entrambi dei tanti tipici del mondo tecnico produttivo sono diventati parte ormai del suo modus operandi e allora se questo modus operandi per integrazione e sinergie consente a Zanuso di progettare oggetti e architetture che sono comunque interni comunque fanno parte sono al passo coi tempi della città tecnica per così dire allo stesso tempo è da contare tra le cause della sua progressiva marginalizzazione se così vogliamo chiamarla da parte di quella che lui definisce cultura architettonica ufficiale e anche in questo caso tra l'altro la sua esperienza è molto simile a quella di Jean Prouvé e questa marginalizzazione però influisce anche sulla ricezione delle sue opere ed è dunque fondamentale sviscerarne le cause per consentire di valorizzare il suo apporto al dibattito e alla produzione architettonica del secondo dopoguerra quindi mi auguro che questa raccolta di scritti che ha cercato di mettere a punto nuove chiavi di lettura per i progetti di Zanuso sia un passo in questa direzione grazie a Roberta Grignolo per questa approfondita analisi che meriterebbe una conferenza a sé direi mi ha anche sorpreso questa immagine taylorista positivista della massaia operaia in cucina analizzata proprio con dei criteri che oggi farebbero quasi inorridire ma che rappresentano invece una chiave proprio di rottura rispetto alla tradizione domestica del tempo e anche l'uso del tempo della donna nella casa cioè immaginare che si possano razionalizzare movimenti spazi significa anche che certe attività diventano più economiche in termini di tempo e quindi c'è tempo per fare altre cose sicuramente questa immagine positivista antirazionalista di Zanuso è però fondamentalmente anti-ideologica e mi sembra che tutto il lavoro di Marco Zanuso abbia questo carattere di ricerca trasversale incrociata in cui appunto il design e l'architettura si intersecano secondo delle ragioni si richiamano quasi uno all'altro perché lui della questione della Lambda mi ricordo che mi disse che non mi parlò dell'automobile ma mi parlò dello stabilimento di San Paolo dove le colonne da diritte diventano cave per contenere i tubi dell'aria condizionata se non mi ricordo se ho capito bene però la Lambda aveva questo tema formale che era passare dalla forma verticale alla forma orizzontale in una forma cava la gamba che è una forma strutturale che resiste ai carichi diciamo di flessione ai carichi di punta deve poi diventare una forma orizzontale cava appunto perché è un doppio strato di lamiera e quindi design e architettura non erano cose diverse erano cose proprio che si integravano noi abbiamo fatto una mostra con Alberto Bassi che di architettura non parla anche se abbiamo poi dovuto proprio perché l'architettura non è strana al design alla progettazione di Marco Zara vuole fare proprio una specie di cronologia delle sue opere che corre parallela con delle piccole immagini ai progetti di design però mi sembra che si colga proprio questo fatto che per Marco Zanuso ogni progetto era un tema nuovo di soluzione di un problema infatti la sua architettura non ha stile e ha semmai questa forma esprime questa necessità della soluzione trovata attraverso una ricerca tecnica tecnologica anche un processo edilizio che diventa lo stesso generatore di un aspetto formale morfologico per esempio c'è la casa di Richard Sapper che ha fatto sul lago che è assolutamente diversa come concetto dalle case in Sardegna e però pure si riconosce invece la ricerca di una del fatto che l'architettura è una macchina per relazionarsi col paesaggio ad esempio e anche è una come dire un tema tecnico che venne risolto al suo interno nella casa di Sapper mi si chiama il tema dello shingle del rivestimento di doghe di legno e nella casa invece di Alzachena nella pietra per non parlare di quella in Sudafrica che è veramente un teorema di un canocchiale con tante sezioni dove si guarda un paesaggio dove non c'è nessuno che lui diceva mi diceva è proprio la straordinaria qualità di questo paesaggio sudafricano che non c'è nessuno in una regione grande come la Lombardia che era la proprietà di questo cliente che beato lui che l'aveva trovato allora adesso io lascio la parola a Alberto Bassi che si è occupato invece di mettere insieme il materiale dell'archivio Zanuso a Mendrisio per dare una lettura di questa figura di Marco Zanuso come designer ma non solo grazie innanzitutto vale la pena di ricordare che il suggerimento che fu dato a suo tempo allo UOV di occuparsi di design è stato raccolto dallo UOV che ha aperto dei corsi di design ed era anche adeguato il secondo pezzo della profezia relativo allo scompiglio per cui non solo abbiamo il design ma abbiamo anche lo scompiglio per cui è un passo avanti dobbiamo mantenerlo sì certo ma mi sembra generalizzato quando abbiamo avuto l'opportunità di fare con Fiorella Bulegato questa mostra dedicata a Zanuso che ha permesso una lettura insomma del suo lavoro e tra l'altro vale la pena ricordare subito se no poi me ne dimentico sempre che questo è stato possibile fare questa mostra e anche la pubblicazione grazie a una serie di collaborazioni importanti dall'architetto Raggi che ha curato l'allestimento Marco Strina che ha fatto la grafica Giulia Pellegrino che in relazione all'ordine ha tirato le fila ma anche grazie anche alla disponibilità che tutti coloro che lavorano all'archivio moderno hanno fornito per preparare i materiali quando siamo partiti con l'idea della mostra abbiamo ci siamo trovati nella necessità di dare un punto di vista vale a dire il lavoro di Zanuso è molto ampio nell'architettura nel design e allora serviva un punto di vista il primo è stato e anche in relazione all'occasione del salone del mobile di scegliere il lavoro nell'ambito del design in realtà questo dialogo con l'architettura io credo che sia stato per scelta un po' messo nell'angolo ma è un discorso sotterraneo perché l'approccio è visibilmente comune al suo modo di lavorare nell'architettura e nel design e questo primo taglio rispetto al suo modo di lavorare nell'ambito del design a una serie di temi a una serie di approcci in realtà necessiterà poi come tutto il lavoro di studio che si sta lanciando di essere ripreso con degli approfondimenti perché la cosa che emerge è che Zanuso ha davvero molte facce ha molte facce nel suo lavoro ha molti interessi e può essere letto da molti punti di vista ma questo lo diranno le ricerche successive a noi conta rendere conto di come mai abbiamo fatto una mostra in un certo modo tanto da cominciare il titolo abbiamo deciso di collegare il nome di Marco Zanuso a quest'idea del progetto integrato parlare oggi di progetto integrato come l'ha teorizzato Zanuso anche se non il libro da Grignolo un po' affronta questo tema non in modo limpido dal punto di vista della teoria però è evidentemente un termine che rimanda a tutta una teorizzazione dentro il design degli anni 50 penso a Rosselli ad altri con l'idea che il design debba essere un atto che in qualche modo riassume in una sorta di lavoro di sintesi molte componenti integri al suo interno sia il lavoro del designer ma sia anche del lavoro che delle persone obbligatoriamente col designer si trovano a lavorare l'esperto di materiale di tecnologie l'imprenditore che si occupa di comunicazione eccetera quindi c'è parso interessante prima di tutto dire riproponiamo questa idea del ruolo del design ancora esiste un sottotitolo che parla del rapporto tra il design la tecnica e l'industria parlare oggi di un designer di un modello di designer che si occupa concretamente di un dialogo con la componente tecnologica che si occupa concretamente del dialogo con l'industria vuol dire riproporre un modello di designer che qualcuno ha parlato di marginalizzazione di un modello di riflessione sul funzionalismo mi pare che al di là delle parole e delle etichette che troppo spesso di cui troppo spesso si abusa il tema è capire qual è il ruolo del design dentro la società più in generale l'idea di Zanuso mi sembrava l'idea di un designer che opera in modo globale che opera all'interno di un processo e in qualche modo genera un progetto che è un esito in qualche modo collettivo di più contributi di più competenze oggi io credo che parlare di un modo di progettare integrato parlare di una priorità della necessità di rapportare di nuovo il lavoro del designer con la tecnologia con le industrie sia una necessità da una parte proponga la figura di Zanuso come una figura fortemente esemplare anche nel contesto contemporaneo che su tutti questi temi deve ripensarsi arriviamo da una fase che io credo fin troppo lunga in cui si è attribuito al ruolo del progettista più in generale il tema tocca l'architettura il design e altri ambiti un ruolo io credo fortemente marginalizzato o auto marginalizzato di questo poi si potrà discutere quello di cui ci parla Zanuso con il suo lavoro è invece un ruolo centrale un ruolo centrale che colloca il progettista nella sua relazione impresa con l'impresa con l'economia con le esigenze specifiche di chi utilizza le cose come elemento centrale su questo dobbiamo tornare a ragionare dopo essercelo dimenticato per lungo tempo allora noi abbiamo preso i materiali di Zanuso e l'abbiamo riorganizzato attorno a tre grandi temi abbiamo detto Zanuso ha ragionato attorno all'idea delle tecnologie quaditiane per primo all'interno di questa di una vasta gamma di rapporti con le imprese di tipologie di oggetti e non era così comune in quegli anni e continuerà a non essere così comune anche fino all'epoca contemporanea pensate semplicemente al lavoro esemplare che Zanuso ha fatto nell'ambito dei strumenti di riproduzione del suolo come le radio piuttosto che di riproduzione delle immagini come i televisori ancora oggi si fatica a trovare dei progettisti che lavorano in un questo modo con le aziende dicevo Zanuso per primo si è occupato di quello che noi abbiamo chiamato le tecnologie quotidiane e dentro quelle abbiamo proposto alcuni degli oggetti più significativi di Zanuso che ha introdotto nelle nostre case radio dalle forme moderne tra l'altro questo tema del teatrino di cui che citava Reichen con riferimento a Sapper ricorda anche tutto un mondo familiare che sull'idea del teatro delle marionette aveva giocato quindi anche nelle forme degli oggetti non c'è pure una ricerca formale ma c'è tutta una reminiscenza di altri molti umanistici dicevo la prima sezione si chiama tecnologie quotidiane abbiamo detto cioè gli oggetti tecnologici tra i primi progettati da Zanuso che vanno dalla televisore al grillo alle macchine per cucire sono entrate nelle nostre case sono diventate domestiche c'è poi una seconda sezione che si occupa di indagare il suo approccio all'oggetto d'arredamento che ha una componente fortemente io credo meccanica meccanica in due sensi nel senso che gli oggetti spesso contengono un movimento ma anche hanno una idea fortemente industrial di come sono progettati come sono concepiti in termini sia di modalità produttive ma anche di materiali che sono impiegati dentro le abitazioni sedute come la Lady per Arflex e molti altri che sono state fatte hanno portato una novità che non ha legato Zanuso a uno stile prima è emerso questo tema troppo spesso il design oggi lavora e ragiona in termini di stile credo che invece ogni situazione ogni contesto imprenditoriale di uso imponga un linguaggio che non è uno stile ed è una cosa diversa abbiamo poi pensato che potesse essere utile fare una sezione che abbiamo chiamato abitacoli temporanei che è per noi quella tradunione tra il mondo del design e il mondo dell'architettura vale a dire si tratta di abitazioni immaginate per le situazioni d'emergenza la prima era collegato alla mostra del MoMA di New York del 72 Italy del New Western Landscape dove Zanuso progettò un'abitazione d'emergenza poi altre furono fatte in relazione alle calamità che troppo spesso colpiscono il nostro paese i terremoti e infine abbiamo proposto anche un po' polemicamente non è vero ma curiosamente un altro abitacolo temporaneo che risponde a un'esigenza temporanea che troppo spesso nelle città viene dimenticato che è quello dei servizi sanitari pubblici Marco Zanuso è probabilmente l'ultimo che ha intervenuto con un progetto destinato alla città con un ordinatoio pubblico di forma circolare molto contestato ma di cui rimane io personalmente un buon pensiero un buon ricordo probabilmente in una dimenticanza pubblica complessiva di questa che è pare un'esigenza temporanea seppur necessaria oggi i bar sopperiscono bar con caffè annesso sopperiscono a questa esigenza ed è una cosa su cui forse veriterebbe fare un ragionamento la mostra poi è stata impostata con una riflessione su come mostrare gli oggetti di design come mostrare il lavoro del designer e allora anche grazie al materiale molto particolare conservato presso l'archivio del moderno abbiamo ragionato sul mostrare il processo cioè non l'oggetto finito ma mostrare i disegni mostrare i modelli mostrare le parti che compongono un prodotto e quindi mostrare anche il lavoro che c'è dietro troppo spesso quando si fanno le mostre di design c'è una modalità auratica di mostrare il design l'oggetto e te lo godi e dici se è bello e brutto in realtà tutti coloro che lavorano nel settore sanno che dietro c'è molto lavoro e ogni tanto tornare a ragionare sul lavoro che c'è dietro per dire se il lavoro e il processo che c'è dietro il lavoro del design è un processo non bello brutto ma giusto corretto adeguato forse cambierebbe i criteri di valutazione e la considerazione del design stesso abbiamo avuto la possibilità di mostrare il percorso attraverso i disegni che erano conservati all'archivio del moderno i modelli che erano conservati all'archivio del modello e poi abbiamo avuto la possibilità di mettere in mostra i modelli conservati presso uno degli storici collaboratori di Marco Zanuso che era Giovanni Sacchi Giovanni Sacchi è il modellista per l'industrial design come si chiamava lui con cui Marco Zanuso e anche poi in seguito Richard Sapper hanno sviluppato molti modelli per l'industrial design i materiali che sono presentati al piano terra arrivano dall'archivio di Giovanni Sacchi collocato a sette San Giovanni e dall'archivio del moderno di Mendrisio questa mettere in mostra il lavoro ci ha permesso poi di fare un piccolo omaggio anche al lavoro nell'ambito didattico di Zanuso vale a dire proprio quello Juav di Venezia nella sua sede all'estera tra virgolette in quella di San Marino dove c'è un corso di laurea legato all'Università Juva di Venezia abbiamo fatto un'esercitazione dove partendo da una ricerca storica da uno studio abbiamo fatto fare agli studenti dei modelli degli oggetti di Zanuso è stato un percorso didattico molto utile a capire come si sviluppava il progetto partendo dai disegni arrivando dai modelli e questa esperienza anche che in qualche modo richiamava e omaggiava il percorso didattico condotto da Zanuso all'interno del Polentacano di Milano ha permesso agli studenti di capire quello che c'è dietro il lavoro e spesso ci siamo accorti come avviene anche con molti modelli di Sacchi e con tutti coloro che lavorano nel designer che forse è più importante la fase del processo che il risultato finale talvolta e allora i modelli più interessanti che hanno fatto i ragazzi configurano il passo prima di arrivare al prodotto finale come molti dei modelli di Sacchi che qua proponiamo la ricerca che viene fatta sulle cornice degli schermi sulla curvatura sulle motori degli schermi mostra una fase che viene prima il modello e il disegno usati per pensare per pensare al progetto credo che quest'idea di mostra che abbiamo proposto i suoi tagli tematici ripropongano fortemente l'autorità di un modo di operare del designer attorno a un rapporto stretto con l'impresa attorno a un dialogo serrato con le grandi innovazioni tecnologiche io chiudo il breve testo che ho fatto nel catalogo che accompagna la mostra recuperando una riflessione che Zanuso fa sul rapporto con la tecnologia e lui dice la tecnologia e il rapporto tra la tecnologia si risolve soprattutto nell'accelerazione delle potenzialità della tecnologia quindi usando bene la tecnologia non fuggendola o non essendone spaventati né dall'industria né dalla tecnologia in una fase in cui troppo spesso ci pare che su soluzioni artigianali semi artigianali di autoproduzione possano configurare una soluzione a un problema più ampio del ruolo del progetto dentro la società mi sembra una buona lezione grazie su questo aspetto che il processo fosse più importante della forma io ne sono stato come dire l'ho subita sta cosa perché ho fatto il corso di Zanuso alla facoltà d'architettura l'assistente era Renzo Piano per dire il livello così delle cose e l'altro era Roberto Luci e il tema tanto perché gli studenti non dovevano tanto montarsi la testa a inventarsi delle forme era il suo banco di scuola fatto in legno quello che ha le due altezze perché il bambino cresce lo studiate in metallo e quindi uno dice vediamo cosa succede a una forma se ne cambiamo la tecnologia produttiva e immateriale e quindi uno non poteva proprio sbizzarrirsi nell'inventarsi nulla ma doveva farsi come dire guidare da questa ferra necessità perché credo che Marco come docente avesse questa proprio questa volontà di spingere sul processo come matrice formativa delle cose allora Richard Sapper che questa sera ha detto tra le varie cose che ha detto ma quella che c'è nel video che lui è arrivato non sapeva niente e poi dopo sapeva tutto e questo significa quindi che anche nell'aspetto diciamo di collaborazione con Marco Zanuso un aspetto diciamo didattico era molto forte cioè l'insegnare attraverso la pratica del mestiere è stata una realtà però mi chiedo a Sapper di raccontarci visto che lui adesso qui è l'unico tra tutti noi che può veramente dirci com'era lavorare con Marco Zanuso visto che lui arrivava non so da dove esattamente e non sapeva niente poi ha saputo tutto e quindi cos'è stato questo approccio con il design milanese degli anni 60 Marco Zanuso e ancora oggi cosa cosa gli è rimasto di fare questi oggetti insieme perché i progetti di Zanuso sono molte volte firmati con Richard Sapper quindi non sono solo di Zanuso ma erano proprio fatti fatti in coppia quasi ti lascio la parola dice va va buonasera ma io trovo che prima di tutto parlando di questi tempi tra lungo tempo passati bisogna un momento guardare anche un po' filosoficamente come ci è cambiato la vita e mentre tu hai detto che io sono arrivato qui non sapevo niente è vero hai detto tu sì non sapevo niente però io sapevo qualche cosa che sapevano tutti e questa era l'atmosfera che in questo momento c'era in questi anni c'era in Italia e in Italia in questi anni e questo era nei anni tardi 50 poi 60 qui la gente almeno la gente creativa la gente architetti designer questa questa gente imprenditori pensavano che fosse possibile tutto non c'era nessun dubbio che un uomo che ha un'idea non possa avere successo io prima di arrivare da Marco da Marco io ero nello studio di Cioponti questo era il mio primo atterraggio in Italia e nello studio di Cioponti quando il Cioponti vedeva qualcuno che faceva uno schizzo che gli piaceva diceva senti o gli lasciava un bigliettino parlami di questo e allora in questo caso per esempio io andavo da lui diceva sì ecco eccomi lui diceva ah tu hai fatto qui uno schizzo hai fatto un mutellino io lo trovo molto carino adesso se ti va bene andiamo da un fabbricante di lampade e facciamo fare una lampada di questo cioè questa era era una cosa talmente facile e talmente chiaro non c'era neanche il dubbio che si potrebbe naufragare con un progetto del genere quindi tutto il lavoro che si faceva in uno studio di architettura o di design allora era basato su una situazione diciamo filosofica completamente diverso di oggi oggi che ogni studio c'ha non so 20-30% di persone che erano perso il lavoro e tutti i problemi che noi ci vediamo di fronte allora non c'erano noi eravamo molto più poveri allora perché non si guadagna tanti soldi e si mangiava delle cose molto semplici però noi eravamo felici non c'erano non c'erano problemi si poteva fare tutto il mondo era apertissimo e quindi questo ha creato in Italia allora un'atmosfera unica un'atmosfera assolutamente eccezionale di possibilità di possibilità per i ragazzi o anche le persone più vecchie di riuscire questo si sapeva cioè la gente era cosciente di questa situazione fortunata e e questo nutriva tutto di un ottimismo e anche di una costanza che era eccezionale io conosco oggi solo pochissimi paesi che hanno una simile atmosfera uno è la Cina un altro è la Corea ma già in Giappone siamo pieni di problemi ma questo certamente è una situazione del genere fa cambia molte cose in uno studio e in più questo studio aveva un padrone che era una persona tutto per sé più unico che raro Gianuso che era una persona gentilissima aveva l'abitudine di andare quando voleva fare un disegno lui faceva restire un tavolo un tavolo tutto disegno poi si metteva davanti ci metteva la carta sopra e poi cominciava a cantare e lui cantava delle vecchie canzoni napoletani e io tante sere l'ho vissuto così Marco il Marco cantava i suoi canzoni cantava bene benissimo però a lui non importava se cantava bene o no a lui voleva cantare i suoi canzoncini e mentre cantava era lì e disegnava a mano libero e non smetteva prima che era finito il progetto e questo l'ha fatto tante volte e quindi questa è una cosa che io trovo veramente più unica che era che uno lavora in questo modo qua era una gioia una pura gioia ma era una pura gioia lavorare in questo studio e da Ponti no Ponti non cantava Ponti non cantava però Ponti a suo modo e era anche un personaggio eccezionale e lasciava i messaggini perché lasciava i messaggini poi poi ti portava in giro noi eravamo nello studio di Ponti noi eravamo magari 40 40 ragazzi da tutto il mondo erano venuti in Italia lavorare in uno studio famoso e da lui lui curava tutti lui li portava in giro li faceva vedere la città faceva era fantastico e Ponti e perché hai cambiato studio e da Ponti sei passato per una ragione molto semplice lo studio di Ponti non avevano più lavoro perché mi interessava che ti interessava il lavoro ce l'avevano sì io non ero interessato a fare mobili di ufficio e cosa eri interessato a fare mi faceva cose che si muovevano anche se non erano più le automobili erano anche automobili ma erano anche altre cose a me hanno sempre interessato tutte le cose che si muovono perché una forma che si muove è tutta un'altra cosa quindi sia la radio che il grillo che si muovevano e quindi ci piaceva farli ma se stavano fermi meno grazie allora io siccome sono le 11 ringrazio tutti non chiedo se ci sono domande se ci sono naturalmente potete farle e ringrazio anche Ennio Brion che non ha potuto venire non c'è a meno che non si sia nascosto perché questa mostra è stata anche resa possibile da un suo generoso contributo buonasera a tutti grazie